E' fresco! E' latte! Con il sapore di cioccolato, lo snack giusto ci ha arrivato! Nesquik Snack da Nestlé! Cosa voglio da una lacca? Tenuta perfetta e capelli sani. Lacca Pantena la provitamina, protegge e tiene la piega. E così ad ogni cambio ho una tenuta perfetta e i capelli sani. Lacca Pantena, per capelli così sani che splendono. Essere o non essere? Occhio a non sbagliare! Qualità senza risparmio o risparmio senza qualità? Questo è il problema. E allora, cosa prendo? Scegli il sole! E' forza solare! Visto? Che fresco pulito! Che forza questo sole! Chi prova il sole non lo lascia più. Lui si domanda Come ha fatto la Mazda a mettere cinque porte in una linea così bella? Lei si domanda Quando arriva? E voi vi domanderete Cosa se ne fa di un'auto a cinque posti un uomo che ama le donne? Ma voi non sapete Quante donne ama quest'uomo? Le bambine? Tre angeletti! Mazda Lantis Più spazio alla bellezza Il tempo Per me è un amico Lui passa e lascia i suoi segni Ma non sul mio viso Per essere amica del tempo Mi basta Nivea Visage Nuova Nivea Visage crema antirugheri strutturante Con la vitamina A favorisce la naturale rigenerazione della pelle E attenua i segni del tempo sul tuo viso Con Nivea Visage il tempo passa dalla mia parte Nivea Visage Per i4 genes Stronger Very Stronger Guerre stellari è tornato sul grande schermo Per tutta una nuova generazione che deve ancora provare il brivido di vederlo E per quelli che vogliono provarlo di nuovo Questa volta non ci fermerà nessuno Guerre stellari edizione speciale Gamberetti Vongoli e calamari Ecco le mezze penne allo scoglio Knorr Sempre al dente Con tutto il profumo del mare Mezze penne allo scoglio Knorr Innamorarsi in cucina Se pensate che le enciclopedie possano risultare piuttosto pesanti Causare sonnolenza o addirittura mal di testa Da oggi per una corretta crescita culturale c'è l'enciclopedia Fabri Completa, illustrata, in 25 pratici volumi aggiornati al 97 Il primo è in edicola sole e 8900 lire Leggele attentamente Beh, posso venire con te? Avrai bisogno di un complice No, non credo Oh, andiamo, ho falsificato io l'assegno Ormai ci sono dentro fino al collo Essere già lì con la mente Prima che il mio corpo atterri Un parecadutista estremo È come un arciere che ha una sola freccia Se non vuole mancare il centro Deve essere freccia e bersaglio nello stesso tempo Sector, no limits Amore, tortellini freschi E questi? Vuoi mettere con i miei? Ah? È una sfida All'ultimo tortellino Allora? Buono Mio E questo? Prosciutto crudo è parmigiano? No Allora è questo il mio No, è parilla Ma pianta Tutto il sapore del prosciutto di Parma E del parmigiano reggiano Racchiuso nella sfoglia emiliana al dente Lo trovi in Parma fresca parilla Promozione da urlo Con Nubegna Libres Puoi vincere subito oro, diamanti e perle bijoux E con la raccolta punti Puoi scegliere splendidi regali Con Nubegna è... Facilissimissimo! C'è il buco in un colosco in cui si deve saniere un po' Puoi scegliere un po' solo con l'energia naturale del malto d'orzo le fette biscottate sono più buone e più sane per darti il benessere e gusto fin dal mattino fette al malto d'orzo mulino bianco chi mangia sano trova la natura due yomo con le fragole ecco il vostro yomo frutta così frutta che non c'è bisogno di aggiungere aromi e yogurt con latte fresco e fermenti lattici vivi e attivi la perfetta armonia tra consistenza e freschezza con tutta la passione di chi fa yogurt da sempre iom c'è la vita dentro nuovo Denim Kalt il uomo che non deve chiedere mai lezione numero uno è severamente vietato fumare l'idea molto impressionante per la prima volta in televisione l'ultimo capolavoro del regista di Senza Tregua John Woo lascia che ti dica una cosa siamo dei criminali è arrivato il momento di ricambiare nessuno può dirgli di no messo alle strette può diventare un nemico mortale in prima visione tv non vorrete vivere in eterno soluzione estrema venerdì 20 e 30 Italia 1 ma è vero Victor si respira vivo si sente nella gola e anche nel naso 1 a 0 per il mister anche al gusto menta limone e arancia per la tua pelle sensibile ora c'è nuovo Nivea Deolatte senza alcol un modo sicuro ed efficace di deodorarti nuovo Nivea Deolatte ancora i cracker essere? sono più buoni e hanno il 50% di grassi meno dei tuoi ma i miei li ho migliorati e se non ti piacciono lucido le scarpe di tutta la casa meglio essere cracker essere per avere sapore e salute sai quando non c'è nessuno ti senti la strada in pugno aspetti ogni curva la prepari guidi in un altro modo come quando... scusa ma hai cambiato auto si un'alfa una 146 Twin Spark nuova alfa 146 Twin Spark 16 valvole questo è guidare grande novità le calze serenella regalano un cucciolo che colora come questo i cuccioli colorelli sono tanti e belli come le calze serenella ce n'è uno in ogni confezione serenella con fiocco certo voglio essere bella ma che sia facile vai laboratori Garnier nuovo shampoo colorante Belle Color gel color facile 20 minuti devono aver pensato a me così facile così naturale con i suoi oli naturali si prende cura dei capelli è in gel non cola bastano 20 minuti Belle Color colore naturale capelli sani e dura a lungo nuovo Belle Color gel color facile ci vivo bene insieme garantito da laboratori Garnier Paris e donde io? ho fame di cultura siete di sapere in Arezzo stacce uno nuovo affresco e noi i moivi se la semana ve pare troppo dura prendetevi un weekend il Corriere della Sera vi regala itinerari italiani e l'Atlante turistico stradale per dei viaggi di piacere d'arte e cultura padre che avevamo sbagliato un weekend? e così la vittima è stata presa per la gola non è mica un reato offrire una zuppa dipende era questa? obiezione è la solita minestra questa signori è la zuppa del casale ortolana densa con i cereali la verza i porri i fagiolini com'è delicata nessuno può resisterle e lui lo sapeva ebbene sì lo sapeva o la solita minestra o zuppa del casale ortolana da Findus c'è solo un modo per affrontare una cascata così alta diventare come lei fondere le mie molecole con le sue essere acqua essere acqua Sector no limits una donna che rischia di perdere tutto quello per cui ha lottato io questo bambino non l'ho partorita ma l'ho conquistato perché Francesca è tornata per portarla via Pietro io me lo ripeto costi quel che costi una donna che sa perdonare Pietro non torna se tu ti uccidi lui ha bisogno di noi di tutti e due una donna che ogni giorno è pronta a ricominciare in prima visione tv Barbara De Rossi dove comincia il sole venerdì alle 20 e 35 su Reti 4 1 2 3 Trici! 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 Game over! Swansh. Keep in shape. Air One Carnet. Air One ti offre il primo abbonamento aereo per solcare i cieli italiani in tutta convenienza. Air One Carnet. Paghi 10, voli 11. Volare Air One. Un modo che è più di una moda. Diciamo la verità, uso solo Neutro Roberts perché voglio un deodorante che non irrita. Perché qui la pelle è davvero delicata. La verità è che la nuova formula del deodorante Neutro Roberts con vitamina E e B5 è ancora più delicata e non irrita perché lascia la pelle libera di respirare. Ed è efficace per tutto il giorno. Neutro Roberts ha le vitamine. Più efficace, più delicato. Come tutti i ragazzi, anche mio figlio mangia cose diverse più volte al giorno. Si creano così molte situazioni che possono facilitare l'insorgere della carie. Perché, dopo mangiato, il pH della bocca precipita pericolosamente nell'area di attacco degli acidi. Per questo gli do confiducia a Vivident Xylit, il chewing gum senza zucchero. La sua azione detergente, neutralizzando l'attacco degli acidi, fa risalire velocemente il pH a livelli ottimali. Vivident Xylit. Più freschezza, più igiene orale. La campana della vecchia torre era dispersa in mare. Mesi e mesi alla ricerca. Inutilmente. Ma noi volevamo che tornasse a suonare. E finalmente. Non c'eravamo mai sentiti così uniti. Cose uniche, vere, come Amaro Montenegro. Amaro Montenegro ha un sapore. Un sapore che non ti sbagli. Lo riconosci subito. Il Testar sfida agli autobus inglesi. Beglilo tutto, così vado a casa. Very nice. Ah. I'll take the packet. No, I'll take it. Ok, prendo lui. Thank you, take him, I'll have a tea. Testar, the real Italian tea. Lo beve, di nuovo. Seguitemi. L'hanno aggredito? O cosa? Non direi. Parla di qualcosa venuto dal futuro. E ci ha chiamato per questo? Dopo che anno vuoi occuparci di chi far mitica. Questa volta credo proprio di sì. Hanno visto tutti la stessa cosa. Lui è Ricchi sta con me. Ricchi? È davvero strano come Ricciol. Da da! I sofficini! Io non li ho mai mangiati. Mai! Oh! Mai! Neanche al formaggio. Ma sono spaziali! Sei spaziali! Siete una famiglia spaziale! Che bravo ragazzo! Oh, ma sono serio combatino eh? sofficini filmus sempre più famiglie scelgono il sorriso io quando voglio vivere non mi piace sono albanese sono decisa di vivere sempre in albania ho detto che sono arrivata solo per perché sono stata egoista e voglio vivere che possiamo fare per voi non so qualche volta mi sembrano inutili queste chiamate che fa prodi per esempio direttamente col presidente o quell'arrivo di dini che è stato non so quanti giorni fa per quel governo perché di là non esiste né governo né presidente né niente tutto qua moby dick giovedì alle 20 e 30 su italia 1 cos'hai da dirmi non ha ancora trovato suo padre pensa che voglia far credere di essere morto per scomparire nuovo ben in caldo il nuovo che non deve chiedere mai grande serata di calcio domani sera su italia 1 con i quarti di finale di champions league dalle 20 e 20 collegamento con il delle alpi di torino per il match di ritorno tra i campioni d'europa della juventus e i norvegesi del rosenborg a seguire il dopo partita con interviste e moviola in speciale champions league e alle 23 un'altra grande sfida atletico madrid ajax domani sera dalle 20 e 20 juventus rosenborg e alle 23 dopo lo speciale champions league atletico madrid ajax grande spettacolo della champions league è su italia 1 17 anni che vivo su questo pianeta e sperano ancora che mi beva qualsiasi cosa mi hanno sovraesposto a miliardi di pacchi bevute mega superstar jingle e a quel tipo di gente che vedi solo in televisione questo mi ha portato a due conclusioni 1 quando hai sete non ascoltare altro 2 guardo troppa tv l'immagine è zero la sete è tutto ascolta la tua sete sprite sorellina non dormi avevo voglia di latte e biscotti buoni oro saiva buonissimi ma te li stai mangiando tutti tanto sono leggeri hanno meno grassi dei frollini meno quanto basta chiederlo all'esperto ma tuo marito è un esperto appunto dove vai amore rispondi il 30 per cento di grassi in meno dei frollini amore da sempre così buoni e leggeri oro sai subito che saiva avevo le voglia amore iscriviti al canale ok E' arrivato in video In video cassetta Porta a casa l'emozione Non hai una grandina, eh? Porta a casa Independence Day Devo comprarmela uno di questi costi Finalmente in video cassetta Non rischiare di perderla Non so voi, ma io bevo Aperol Da oggi per chiuso la carta American Express E vola all'Italia Aumentano i punti E si moltiplicano i voli I viaggi e i divertimenti Con una scelta ancora più ricca di premi e di opportunità L'importante è usare la carta American Express Ed essere iscritti al club Membership Rewards E al club Mille Miglia all'Italia Da oggi insieme Per premiarvi di più Pasqua 1500 La festa nasceva con la ricetta della colomba 500 anni dopo La colomba le tre marie si ispira a quella ricetta E con tre giorni di lievitazione naturale E la glassa più ricca e croccante Ti dà quel sapore come appena spornato Colomba le tre marie Soffice e croccante Fino all'ultima fetta Le tre marie Il sapore della colomba appena spornata Lei non crede professore Ma le dimostrerò che è vero È tutto vero Le mummi esistono ancora Qui Ai giorni nostri A pochi passi da noi Ero certa professore Lei sa sempre tutto Ma c'è qualcosa di cui neppure lei è al corrente Esiste una setta Una setta di mummificatori E ha un preciso obiettivo Io le scoprirò Alex Indagini su mondi segreti Giovedì alle 23.15 Su Italia 1 In che modo li ha avuti? Che importanza ha? Li ho e basta? È stata l'FBI a mandarla qui? No Sono le ultime persone con le quali voglio avere a che fare Vogliono arrestare Nuovo Benin Kalt Il uomo che non deve chiedere Mai Lezione numero uno È severamente vietato fumare l'idea Molto impressionante Per la prima volta in televisione L'ultimo capolavoro del regista di Senza Tregua John Woo Lascia che ti dica una cosa Siamo dei criminali È arrivato il momento di ricambiare Nessuno può dirgli di noi Messo alle strette può diventare un nemico mortale In prima visione TV Non vorrete vivere in eterno? Soluzione estrema Venerdì 20 e 30 Italia 1 1 2 3 Try again Hey 3 Replay Game over Swatch Keep in shape Stampanti Canon La stampa non ha confini Van di Spagna Van di Spagna essere con solo l'1,7% di Siamo dei criminali È arrivato il momento di ricambiare Nessuno può dirgli di noi Messo alle strette può diventare un nemico mortale In prima visione TV Non vorrete vivere in eterno? Soluzione estrema Venerdì 20 e 30 Italia 1 1 2 3 Try again Hey 3 Replay Game over Swatch Keep in shape Stampanti Canon La stampa non ha confini Van di Spagna essere con solo l'1,7% di grassi Certo che piacciono alle mamme Ma se i ragazzini le mangiano Mi faccio Boy Scout Pan di Spagna essere per avere sapore e salute Per scoprire la verità Le tracce vanno in linea retta verso il bordo Nessun bambino al mondo giocherebbe così Deve andare oltre la legge Scoprirò perché hanno ucciso Isaia Dal thriller best seller internazionale Il senso di smilla per la neve Da oggi Per chiuso la carta American Express E vola all'Italia Aumentano i punti E si moltiplicano i voli I viaggi e i divertimenti Con una scelta ancora più ricca di premi e di opportunità L'importante È usare la carta American Express Ed essere iscritti al Club Membership Rewards E al Club Mille Miglia l'Italia Da oggi insieme Per premiarvi di più E al Club Mille Miglia l'Italia E al Club Mille Miglia l'Italia Più energia Più benessere a fior di pelle Freschezza fa Splash La freschezza della nuova generazione A tavola ogni giorno Ci si riprova Aggiungi Coca-Cola Ed è tutto un'altra cosa Coca-Cola E gusto in più Esalto ogni menù Sempre Coca-Cola Coca-Cola A tavola Sempre E da oggi Anche senza caffeina Stai bene? Sinceramente Questo programma È stato presentato da Bauli La Colomba Che caffè Silvestre Grazie